Ciao a tutti Ciao a tutti spaghetti Benvenuti in questo nuovo video Nel mio canale di Lorenz Sono qui con Ok basta Ecco il toas di saluta Allora in che gioco siamo Fai tu una cosa Among the sleep Come? Among the sleep Ma l'ho sentito Among the sleep Among the sleep Dai adesso l'abbiamo capito Va bene vai Vai sbrigati Ah no aspetta Spiega questo gioco di merda Allora questo 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 Gioco di merda Questo gioco di merda In questo definificheremo il neonato Neo 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 Fair Co la notte da presenza del cuore della notte dire di cominciare attenzione la mamma ma qualcuno è tutta la del merda ricordiamo che impersoniamo il nostro bellissimo gesù neonato il nostro bellissimo neonato basta tre volte in questo gioco mondo di sleep un gioco india non è ancora completo perché non vedo niente siamo ciechi siamo un bimbo merda ciego perché questo gioco è una merda o non vorrei oh 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 vedo i stati con le immagini orco o padre e figlio non c'è niente di paranormale in questo gioco niente niente parquillo nel qualche di carta la pancia neanche un po di paranormale niente 0 non c'è neanche una cosa per un marzo ma lei è perché non si muove niente perché seriamente sai perché fai un bambino perché è un bambino perché sa che tipo i cani i bambini possono vedere i fantasmi ecco perché lo stai vedendo non so che tu e volo a vero ci ha messo qualcuno ha no ho capito chi è il bambino chiedo a mister bim succede mamma che cazzo fai culpana o vabbè almeno almeno non è caduta la cura mamma siamo nel gioco stavente se spinta luce per per carcarlo motivo con l'altra la visuale oscillante trama torce deve essere un bellissimo o signori signori un bel forziere udi e alzati se non c'è niente o si tratta la pancia mamma che un pro mamma mia si chiede mai prigio no no p scocchiera ieri come amici dame vabbia ma andiamo esci pure da poco esci pure nooo ascolta poco sacere le fonti non vogliamo se non chiamare vai andiamo diamo ma per chi li ha usare il culo attire ma giro il bambino che sta inculando un io si capisce fin cazzo dove sto i sei dai cosa mi ha so solo fino a questo punto non c'è dopo di che per anni a porto un bimbo disimono andata sarà vero che non mette manco un settecine che guarda guarda spara rapica porca ooooh spider sia per favore whatsapp signori come non entrare qua no no eeeh 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 c'è la lavatrice la lavatrice best game ever mamma mia che c'è 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 va bene a te le modelli va bene teddy si chi no sto calando foto perché avevo l'ango che senso ma 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 fa un cuore gioco di grande no se niente il nostro nemico apri sto porto risperda anche ragazzo è la cosa più importante del mondo una scala pariamo siamo tornati eccoci io gli ho paura ma provvedibile non parliamo tanto ma quando ci chiediamo sottose che c'è una serie per farla vista figlia salto a come faccia per c'è la televisione accesa io non guarda lo statico io mi sto prendendo male io poi c'è entra ti rompiamo qua no ma ma mamma scopo bababio guarda l'altriere è la cosa più brutta poi c'è Samara va qualcuno che Samara eh eh da perché metti in pausa ma che è che è cos'è è me stai fermo me e si muoveva con la sinistra percanzi 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 ma 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 mi sento un bimbo percanzi disco oh stai percanzi aperto io ma 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 spon spon il si si ma il mio latte roia di merda non è capace ma anche di farmi il latte non cosa devi fare ce la porta la cavia di fuga vedo che non stiamo scambiando di strada per me stiamo sbagliando ma che cazzo non vediamo un po non è giusto anche se non cazzo ma come cazzo soli no ma ancora vedi no mamma che madonna bo corridoi no vai gattoni sia gattoni belli ma gattoni ma perché perchè devi entrare perchè deve provistare amicia 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 vai a rivistare no perchè sono un bimbo minchia sono famiglia mentre stavo ecco la faccia mi hanno male o io mi sto tirando sotto su se no ma si può che in sta casa è tutto buio ma puoi piangere no no è un grande questo e mamma ma ma in che istanza è dove perché non si può fare niente assimilter è aperto no di vendarci sei arrivato in campo non si vede una sega sei arrivato sei arrivato aspetta non si vede una sega non si vede una sega non si vede una toglia dove è la gamma la mad giust devo vedere se fa cagare così si vede peggio di prima ma 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 non mi sto a prendere male mi sto pagando sotto oh per aver mangiato devo sboccare perché si vuole essere una faccia urlante io sono una di quelle madonnate che la ricorda su youtube tutti ma quale faccia urlante ma perchè devi aprire il cassetto perché mi voglio arrampicare come facevi a saperlo ma che cazzo io sono toccato modi sei maciulla o vuoi dare cliccata un anzi sono un bimbo parco di attore estremo cos'è questo ma cosa fa nemmeno l'ha toccato ma chi è gesù sto bambino vuoi saltare non si può saltare e allora mi chiede io non mi salta a morte va vola cos'è che sono al telefono vola aspettate torniamo subito adesso sono tornati ok scudateci ma abbiamo parco esterno salta salta si può saltare io salta buttati che fai qualcosa apre la porta al volo aperta però ci arrivo ma cosa non ci arrivi non ci arrivo ma perché se piccolo un nano di merda adesso devi risalire scusa come hai fatto a risalire prima o ho fatto così che sta rompita di nuovo ecco modo apre al volo a cala non si può aprire vuole avevi aperto prima dai così che si fa guarda sono einstein il figlio di aistani mi fateva non si apre o la mamma mamma agaga pupa un po mercato ma bambine ma cosa cazzo dov'è io stai andrò qualcuno sei giù beh non c'è nessuno mai non ci vado no devi andarci ma perchè non non c'era sento sul film io con la sedia cos'è la gente sostiene rendo chiesto mani di favore via siete di me no devi portarla devo portare niente per la morte già aperta quell'altra mezzanotte unicante percorso 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 io passi a me no cosa cazzo è spuntato lì e lo chiediamo in tutto perché era proprio qua e io direi si pareva gioco no no dai e dai che cazzo è qualcosa brutto per il dottore che ma ne pare vuoi andare in mezzo di scappare il dottore per compasso lì ea da mamma fa la troia cos'è c'è sto posto sta super mario parco supermai cosa fa gli invominati dei miei piselli bimbo del cazzo una tanti di piselli ma cos'è quella cosa un vetro cos'è ci fa dentro ah ma tipo un mondo parallelo di un settunzo non è possibile amma ma guarda mi è un mondo parallelo come fa gattonare sulle scale stava giurlando tipo le gironi sta ma ma non è non so sarà il cazzino ma perché qua dentro al mare ma è un'altra dimensione cioè cos'è ma cosa non c'è cazzo sei non è un'altra dimensione era una dimensione cos'è non mi chiedere mai sto giocando anch'io con te non so via da coglioni per me da siete cos'è che vado a pochissimi fps oddio se mi specchio ah ma è un trombone tipo uuuu vai buttati bambini sono idioti non 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 non